Siamo qui appunto e diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Vladimir Luxuria presentato da Leonardo Feltrin che ci parleranno del libro L'Italia Migliore, libro che trovate in vendita vicino all'uscita e credo che il nostro ospite sia disponibile dopo l'incontro anche a firmare autografi e a scambiare due parole con il nostro pubblico. Grazie a tutti e buon ascolto. Allora io chiederei un altro applauso perché comunque a parte di 25 minuti è un grande piacere per me ritrovarla perché ho avuto modo per fortuna di parlare con lei direttamente altre volte e un po' perché il libro lo dico spassionatamente è stupendo, ce l'ho divorato in pochissimo tempo, è un libro molto bello, è un libro ma bello è riduttivo nel senso che hai la capacità, almeno questa è proprio l'estemporaneità dell'inizio, di individuare benissimo ogni personaggio, di svilupparlo pian piano e di farlo quasi diventare proprio del lettore senza rivelare mai troppo ma senza neanche deludere alla fine. Si parla di televisione, si parla di uno, hai dato uno spaccato di televisione con questo personaggio, Marianna, con tutte le sue fisionomie, con tutti i suoi vizi, con tutti i suoi tic definiti così e dall'altra parte la sorella Camilla invece completamente diversa. In mezzo c'è uno spartiacque che è la madre. Sono tre donne o è l'unica storia, c'è un'unica storia divisa in tre parti diverse. Intanto buonasera a tutte, grazie di essere qui. Io direi che il punto centrale del libro, così andiamo subito all'obiettivo, sia quello del rapporto insoluto coi genitori. Il rapporto, diciamo così, coi genitori è un light motive dei miei libri, sempre ho scritto quattro libri. Questo è stato un motivo ricorrente, un fil rouge dei quattro libri. Forse perché mi rendo conto adesso di quanto io sia stata fortunata ad essere nata da una mamma poco più che diciottenne, perché io sono nata da una mamma che è rimasta incinta di me e che si è dovuta sposare a causa mia, tant'è che quando poi lei si sposò non potette indossare l'abito bianco, ma dovette indossare il taillère color crema perché non era vergine. E quindi mi rendo conto adesso, mentre per mia mamma, una ragazza di 18 anni, avere dei figli vuol dire sacrificare la vita, mi rendo conto invece di quanto sia stato positivo per me avere una mamma così giovane, perché soprattutto adesso con le persone mie coetanee mi rendo conto che sento sempre più persone che hanno o i genitori che stanno molto molto male o che li hanno già persi. E mi è capitato spesso in questo periodo di sentire quasi un rimorso da parte di alcune persone che mi dicevano oltre al dolore della perdita dei miei genitori o di uno dei miei genitori il dolore più grande è quello che c'è stato qualcosa di non detto tra noi, non ci siamo detti alcune cose ed è troppo tardi, non c'è modo adesso. Questo è qualcosa che mi ha sempre molto fatto riflettere. Poi avevo da un po' di tempo il desiderio di scrivere un libro sul tema della fama, della ricerca del successo, della voglia di diventare famosi in questo mondo, con qualsiasi mezzo, di essere riconosciuti, di guadagnare soldi. Allora cos'è successo? È successo che poi avevo nel frattempo, perché poi il libro è tutta autobiografia, nel frattempo una mia carissima amica ha avuto la mamma che si era ammalata di Alzheimer e che quindi a un certo punto non la riconosceva più. per cui il punto credo più forte del libro è quando la protagonista del mio libro, che si chiama Marianna, ma che quando diventa famosa si fa chiamare Mari Lupa, che aveva un rapporto diciamo così negativo con la madre e che ha lasciato il paese anche per lasciare la madre, infischiandosene poi della malattia della quale la teneva informata la sorella, ecco proprio nel momento in cui lei arriva all'apice del suo successo, all'apice della sua riconoscibilità, tant'è che a volte le dà anche fastidio essere riconosciuta per strada, proprio in quel momento ha una crisi di identità, di valori e decide invece di ritornare al suo paese perché vuole parlare con la madre, vuole soprattutto parlare di alcune sue cose che riguardano l'infanzia. E il punto più drammatico secondo me del libro è quando la mamma in realtà non la riconosce o sembrerebbe non riconoscerla perché appunto è malata di Alzheimer, anzi la scambia diciamo così, la confonde con una sua vecchia amica sarta. Quindi le riflessioni di Marianna, diciamo che è quasi infastidita dall'essere riconosciuti per tutti, che dice la persona che io volevo invece con cui volevo parlare, volevo quasi slacciare dei nodi che riguardavano ferite antiche della mia infanzia, un'infanzia violata, proprio lei invece è l'unica che non mi riconosce. Quindi erano proprio questi temi che mi interessavano moltissimo e che li ho ambientati appunto in questo romanzo che si chiama appunto l'Italia migliore, sperando che sia anche un buon auspicio, che invece nel mio libro è tutt'altro. Sì, infatti c'è proprio... però comunque nell'Italia migliore, nel titolo di questo reality che fa parte proprio, che poi è la molla che fa scattare all'interno di Mari Lupa, di Marianna, la voglia di tornare a se stessa, cioè c'è questo, posso dirlo, questo sfogo momentaneo, che la fa ritornare dentro se stessa. Tu hai parlato di popolarità, di il fatto che lei fosse riconosciuta da tutti ma non dalla madre. Questo essere riconosciuti da personaggi esterni, da persone sconosciute, aiuta a farsi una secondo te, non nel tuo libro ma anche nel tuo modo di vederlo, questo libro. L'aiutava a farsi un'identità nuova rispetto a essere riconosciuta da qualcuno che la conosce? Beh, la mia protagonista è Mari Lupa e nel suo paese di origine è molto chiacchierata, mal vista, rispetto soprattutto alla sorella con la quale viene naturale fare il paragone perché la sorella Camilla è la donna che in paese l'unico fidanzato diventa il marito, ha il figlio, si prenderà cura della madre, veste in maniera borghese, mentre l'altra che è Marianna è quella che si fa le canne sul sagrato della chiesa, quella che si veste in maniera anticonformista, che va male a scuola, che ha più di un ragazzo, molto chiacchierata. Quindi a un certo punto è come se volesse un riscatto dal paese che comincia a sentire come un carcere all'aria aperta e quindi lei dice io vado in città, divento famosa, ricca, devo tornare in paese un po' vittoriosa, come per dire al tutto il paese, vedete quella che voi criticavate? Invece torna in paese ricca e famosa, con qualsiasi mezzo, un po' l'idea che la popolarità e il successo e i soldi possano essere la formula magica della felicità, cosa che invece non è, nella vita e anche nel mio romanzo. Quando lei torna, perché qui ci sono queste due sorelle, sono effettivamente molto diverse, le descrivi anche proprio con linguaggi, con immagini molto diverse, riesci anche, l'unico momento, solo verso la fine darai il tono di un tagliere di grande griff a Camilla addosso, per cui anche visivamente sono molto diverse. Mentre a Camilla mette in bocca un po' l'invidia ad un certo punto nel ritorno, ma c'è un po' di invidia anche dall'altra parte, cioè di Mari Lupa per Camilla? L'invidia, che poi l'invidia in realtà non sarebbe negativa, perché viene dal latino che vuol dire sentirsi privo di. Questa è l'etimologia della parola invidia. Potrebbe essere addirittura una virtù di umiltà, pensare che hai qualcosa in meno rispetto a un altro. Il problema dell'invidia che diventa negativa è quando tu, invece di cercare di fare delle cose per emulare l'altro o per avere le stesse cose che ha l'altro, cerchi di distruggere l'altro, no? Quella è l'invidia negativa. Nel caso del mio romanzo, sì, inizialmente Marianna aveva invidia della buona reputazione della sorella, del fatto che fosse la persona più amata in casa, più viziata dalla madre e anche la più coccolata dalla madre, mentre lei si sente una pecore nera. Però poi dopo il successo dell'altra sorella, un po' di invidia ce l'ha invece l'altra per il successo che ha avuto. In questo romanzo è un continuo ribaltamento e non c'è nulla di sicuro. Spingo a farvi amare un personaggio e a farvi odiare un altro, ma dopo qualche capitolo si ribalta tutto. Così come anche l'invidia, non c'è nulla di fisso, come nella vita, non c'è nulla di statico. Cioè l'unico punto però che non cambia mai è la madre. Perché alla fine si rapportano entrambe, cioè c'è un'incapacità, ognuna per il proprio motivo, di comunicare con la madre, una la seconda ne fa un po' uno specchio, una giustificazione per il modo in cui sta vivendo, l'altra ne fa una giustificazione però all'opposto del modo per cui c'è, riguardo al modo in cui sta vivendo. Questa madre è l'ago della bilancia, cioè porta la bilancia su due piatti uguali o è quello che lo fa proprio pendere repentinamente per togliere l'equilibrio. La madre è una figura molto forte in questo romanzo, diciamo così, però è anche la depositaria forse di una tragedia avvenuta all'interno delle mura domestiche. La bambina, Marianna, veniva lasciata sola col papà quando la mamma andava a fare la spesa perché poi Marianna aveva questo carattere un po' da monella, sin da piccola, per cui anche nei negozi, nei supermercati prende la roba, la mette nel carrello, lei ha paura che faccia cadere dei prodotti, per cui preferisce lasciarla col marito che invece in realtà la molesta, la molesta sessualmente. Quindi è una storia di infanzia violata e la bambina comincia a fare dei disegni molto strani, neri, con colori molto cupi e addirittura con la matita che strappa il foglio. Quindi la mamma capisce che c'è qualcosa che non va, lo chiede alla bambina e la bambina dice semplicemente non voglio più rimanere qui a giocare con papà. Quindi la mamma in realtà capisce. Però in questa idea del paese in cui i panni sporchi vanno lavati in casa e la polvere va nascosta sotto i tappeti, lei preferisce non affrontare questo argomento col marito, far finta di niente, semplicemente non lasciandola più da sola col padre. Quindi Marianna ha anche questa cosa insoluta con la madre, lei vorrebbe parlare di questo con la madre quando ritorna. E la cosa più grave è che la mamma è malata di Alzheimer e non può più parlare di questo, al punto tale che la figlia pensa che addirittura finca finga di avere la malattia perché è l'unico modo in cui la madre potrebbe, diciamo così, evitare di affrontare questo argomento diciamo con la figlia. Infatti il fatto che la madre non ne parla più, non ne parla più neanche col marito di questa confidenza della figlia piccola, cioè ritorna al fatto che si sappia in paese, fin dall'inizio c'è questa, cioè Marianna si scontra da piccola, da giovane con il fatto di avere una brutta, una pessima reputazione perché in paese parlano e sparlano, mentre poi andando avanti cerca la reputazione, che parlino o sparlino ma diventa una necessità, prima era un odio, ora è una necessità per la stessa cosa. Cosa scatta in quel momento? Ma questo è anche un tema per me molto importante perché effettivamente ci sono state e ci continuano ad essere tante tragedie che non vengono rese pubbliche sempre per questa ipocrisia del mantenere il buon nome, di preservare il buon nome della famiglia. Nel mio caso un'infanzia violata ma penso anche a tutti gli episodi di violenza sulle donne, un tema importantissimo, ci sono tante donne che vengono trattate male in casa, addirittura picchiate, però che stanno zitte, non denunciano perché c'è sempre il problema di non voler far sapere le proprie cose all'esterno pubblicamente. Per questo ho voluto anche trattare questo tema della reputazione, anche questa parola reputazione. La buona reputazione inquinata dall'ipocrisia secondo me è un virus. Si ferma tutto, da uno standard che non si può accettare ma si deve accettare, o meglio non si vuole accettare ma si deve accettare. Arrivando a questa reputazione ricercata della parlata o sparlata basta che se ne parli, il tuo libro è stato considerato anche uno spaccato ovviamente non generale ma speciale, specifico su un caso ben particolare, della televisione. Quindi si parla di uso di cocaina per quanto riguarda Marianna, di questo rapporto con il direttore di rete per poter arrivare lì e poi anche magari la retromarcia nel dire perché l'ho fatto, ora ormai ho il mio risultato ma sono imprigionata. Quindi questo spaccato che tu tra l'altro hai descritto e trattato con un linguaggio estremamente reale, il linguaggio proprio che noi usiamo tutti i giorni con riferimenti reali, questo spaccato è così reale? Ci sono degli aneddoti che ho preso dalla realtà, però sono stata molto accorta, nel senso che non ho identificato il mio personaggio con uno solo della televisione, anche perché la conduttrice tv del mio romanzo è una che va a letto col direttore di rete per avere il programma e come voi tutti sapete queste sono cose che non accadono nella realtà, quindi sono dovuta un po' sforzare, usare la mia immaginazione, un romanzo. Tant'è che poi dopo qualcuna di queste famose mi ha chiamata, mi ha scritto, una mi ha detto guarda io bevo solo coca cola, tratto bene le mie parrucchiere e non sono andato a letto con nessuno e io le ho risposto dico ok, nessuno dice coca cola, l'importante è che non rutti in televisione perché la coca cola è un po' gasata, ma a parte questo, diciamo io ho usato l'ambiente televisivo perché ho un po' il paradigma di un ambiente che poi può essere anche altro, possono essere anche altri ambienti di arrivismo, anche di cinismo, nel senso che a un certo punto Marianna decide che lei deve comunque avere questa trasmissione, perché lei va a letto con questo disgusto, questo uomo disgustoso e si strafa di cocaina per sopportare anche proprio fisicamente questo, questo uomo è una che li fa licenziare gli autisti per un non nulla, è una che tratta male i truccatori, i parrucchieri, insomma una stronza ecco per non usare un termine esatto, perché? Perché lei pensa che il successo possa essere balsamo per queste sue ferite antiche, questa è la grande illusione e poi invece si accorge che così non è, che è effimero, che tutto questo è molto effimero e in un mondo in cui diciamo tutti cercano la visibilità, la fama, la popolarità mi è piaciuto un po' trattare, poi anche perché io ci sono stata dentro e quindi per esempio mi ricordo dopo aver fatto il reality l'isola, la cosa mi ricordo questi ragazzi che dopo un po' mi dicevano ma non ci caga più nessuno, non ci cerca più nessuno, cioè l'illusione no? L'illusione che basta andare in televisione per essere e è stato anche qualcosa su cui ho molto riflettuto. Cioè il sensazionalismo nell'Italia migliore, questo reality all'interno del libro, sensazionalismo che viene tra l'altro accentuato e distrutto dagli stessi, perché comunque all'interno del programma vengono portati a essere eroi questi personaggi, nello stesso tempo vengono portati a essere dei mendaci, mostruosi. Il sensazionalismo, la lacrima facile, la voglia di vedere chi sta peggio, non nel senso nobile del discorso, non nel senso solidale dell'argomento, ma questo mettersi quasi al dito giù per vedere almeno io sto meglio. All'interno, a parte del tuo libro, ma all'interno di questa tua ispirazione, al mondo televisivo, che bel ruolo ha secondo te? Tu che ci sei stata dentro, che hai visto anche questo? Beh no, io nell'ideare il format televisivo che si chiama l'Italia migliore sono stata più bastarda, carogna, perfida. Cioè ho tirato fuori proprio, dico, quale può essere un programma veramente perfido? A parte che nella realtà esistono dei programmi perfidi, no? I reality sapete sono, uno lo sa, si scrive, però ci sono delle cose molto più perfide, per esempio in Giappone c'è una trasmissione in cui i concorrenti sono dei malati che hanno bisogno di una cura molto costosa che non si possono permettere e solo chi vince avrà i soldi per la sua cura. Questa è la realtà. Io nell'ideazione, diciamo, di questo programma ho pensato questo. Allora sto descrivendo un mondo in cui Marianna cinica, vuole ottenere il successo, si fa sesso per avere il potere. Tutte queste cose qui. Dico, devo creare un contraltare. Quale programma danno a Marianna? Danno un programma di persone completamente diverse da lei. Cioè lei deve fare una specie di inviata speciale, andare in giro per l'Italia, dal nord, dal sud, per andare a ritrovare quelle persone che hanno compiuto dei gesti meravigliosi, di grande generosità, di grande altruismo, gesti che hanno ottenuto solo piccoli trafiletti per pochi giorni sulle cronache dei giornali, ma poiché le notizie buone fanno meno notizie delle notizie cattive poi sono stati dimenticati. E quindi l'ho fatto anch'io questa cosa. Io spesso quando leggo di persone che salvano la vita un altro, che spendono tutti i risparmi per aiutare un altro, mi ero ritagliata a questi trafiletti e ho fatto quest'opera di ricostruzione. Una cosa succede. Lei va in giro, seguita dalla telecamera, va a ritrovare queste persone, le fa conoscere al grande pubblico, il pubblico si innamora di queste persone che hanno fatto questi gesti meravigliosi, eroici, gli italiani dell'Italia migliore. Una volta che questi diventano famosi, quindi la gente si affeziona, parte la perfidia. A loro viene dato un codice, sono sei persone, quindi 010203040506 e si scopre che loro diventano i concorrenti di un docu reality dove chi vince 500 mila euro. Ed è la gente da casa col televoto che decide fra questi sei chi è il migliore dei migliori. Per cui questi che hanno fatto questo gesto in maniera disinteressata davanti ai 500 mila euro, davanti alla fama, cominciano a rilasciare interviste parlando male l'uno dell'altro per mettersi loro in buona luce e diventano dei gran bastardi pure loro in qualche modo. Alcuni no, alcuni restano quasi smarriti, anche spaventati da tutta questa roba. Altri invece capiscono qual è il meccanismo della competizione. Ecco, la competizione selvaggia. La competizione che c'è oggi perché il fatto di, per esempio, anche in un ambiente di lavoro, quando ti si dice c'è la crisi, no? Lavorate in dieci, avete tutti un contratto a termine, c'è la crisi. Cinque di voi probabilmente non ce la faranno. È una specie di reality anche questo, perché poi tra i lavoratori non scatta più quella solidarietà da sindacato, no? Lavoriamo insieme, combattiamo per le nostre battaglie insieme, perché sono i diritti dei lavoratori. No, scatta quella cosa perversa della competizione, per cui io devo cercare di sembrare migliore dell'altro, perché così a me rinnovano il contratto. E beh, poi o meno la stessa cosa che è ambientato nel mondo televisivo. E poi la cosa bella è che su determinati casi, soprattutto quello che è il più eclatante, che danno tutti per vincitore 10 a 1 classico, non so come hai fatto, ma nessuno, almeno io leggendo, poi non so se qualcuno l'ha già letto o lo leggerà, è il classico caso, bene, adesso vediamo cosa si inventa, perché è indistruttibile, in realtà riesce a distruggerlo. E c'è questo riflesso strano del pubblico che se mai e poi mai avrebbe pensato che quel caso era distruttibile, ci crede, crede alla distruzione e poi andrà a votare quello che andrà a votare per non prendersi la responsabilità di un giudizio, cioè la solidarietà facile di gruppo, di massa, di parola, ma la solidarietà di fatto nel prendersi una responsabilità lì proprio non c'è. Che solidarietà ha avuto Marianna con se stessa? Marianna è la persona alla fine più fragile, veramente più fragile. Ed è, diciamo così, sono innamorata di Marianna io, sono molto innamorata di Marianna. Si legge perché la arricchisci sempre di più, la completi. Sì, perché diciamo che è una ragazza stordita, è una ragazza che si illude di ottenere la felicità in un modo, ha avuto una bruttissima infanzia, si riscatta alla fine, però diciamo così c'è questo rapporto insoluto che è il tarlo suo maggiore, è un personaggio davvero molto complesso a mio avviso. All'inizio voi la liquiderete come quasi la divetta capricciosa, però poi dopo, per chi di voi avrà la bontà di leggere il romanzo, ve ne innamorerete. C'è un buonismo capovolto, trasversale ma capovolto, veramente molto interessante. Poi c'è una cosa, scusami se mi permetto, che mi ha fatto sorridere moltissimo, tu hai la capacità, ma come è successo nella tua vita, dalle aule del Parlamento al teatro, alla televisione, al reality, al Mucassassina, soprattutto al movimento LGBT a portare avanti le richieste di necessari diritti. Ci sono, adesso questa è tutta la parte nobile, ci sono dei personaggi maschili all'interno del tuo libro, maschili eterosessuali e omosessuali, che fanno trapelare proprio questa tua esperienza, perché ci sono delle battutine, delle frecciatine all'interno del famoso assistente, vero Francesco, che sarebbero veramente degne di un ritrovo tra Arpi e al compleanno del mio caro amico Harold. È stato molto bello l'inserimento di questo, come l'inserimento di Grindr o di altre, cioè la capacità di mettere tutto sullo stesso piano e tutto che ruota intorno ovviamente al tuo personaggio. Ma un'altra cosa era il discorso, come sono questi uomini intorno a lei? Perché tu li tieni un po' chiave per quello che fanno e che devono fare per lei? In questo trattamento forse c'è la mia parte più autobiografica per quello che è riguardato la mia carriera universitaria. Io mi sono laureato in letteratura inglese, ho studiato tantissimo Shakespeare, quindi c'è molto di Shakespeare in questo, nel senso che come nei saggi di Ben Johnson dedicati a Shakespeare si individua il fatto che non c'è mai una linea di demarcazione così netta tra personaggi negativi e positivi, o per dire tra buoni e cattivi. Persino i personaggi più terribili, sanguinari, assassini in Shakespeare hanno poi dei monologhi di grandissima umanità. E poi anche l'inserimento che fa sempre Shakespeare, grande, che anche nelle tragedie emette dei personaggi minori che poi fanno delle scenette un po' più, diciamo così, leggere, più divertenti, perché poi la vita è anche questo. E allora davanti a questa tragedia, diciamo così, dei personaggi femminili, i personaggi maschili, stavolta ho deciso il contrario rispetto alla vita, i personaggi più importanti sono quelli femminili, gli uomini sono personaggi più secondari e sono, sì, sono un po' da contorno e sono anche quelli un po' più divertenti. Ho scelto di inserire anche nella descrizione. Servono ad alleggerire un po' il tono del libro. Anche se l'assistente alla fine è il... ecco, l'assistente, perché diventa suo confidente, diventa l'unica persona, come hai scritto tu, che la comprende veramente, o comunque la seconda e non scappa, oppure non le risputa addosso, perché poi è quello che lei fa nei loro confronti, tutta la cattiveria che arriva a loro. Questo Francesco è innamorato o la vede come simbolo o semplicemente la comprende, capisce nonostante tutto il disagio interno che lei prova. Non vorrei essere accusata di blasfemia, perché poi io... Anche se si definisce non vorrei mai essere una lesbica... No, no, non vorrei essere accusata di blasfemia, ma credo che bisognerebbe inserire nella lista d'attesa della beatificazione dei martiri anche gli assistenti delle star televisive, perché, insomma, hanno un grado di sopportazione. Tutte ce l'hanno, l'assistente gay, generalmente. Anche per... non so, spesso è così. E vanno sempre in giro con loro, più giovani, così. Allora, quindi io ce l'ho inserito, no? E sono persone dotate di una grande pazienza, perché comunque devono attutire gli scatti d'ira ingiustificati delle star televisive. Ce l'hanno tutti, no? Ce l'hanno... E quindi io l'ho messo con Francesco, che però, diciamo, anche lui... Questo Francesco che ne subisce... Anche lui, verso la fine, quando Marianna decide di non fare più televisione, di ritornarsene al paese, e c'è... Anche lui, con un passaggio molto leggero, dimentica assolutamente la sua assistita e passa avanti un altro, no? E quindi... Però è molto... Mi sono molto divertita, perché molti degli aneddoti sono veri. Però, allora, io ne ho preso uno da quella, una da quell'altra, una da quell'altra, così non rischiavo di essere denunciata. Per cui ho creato un mostro con il peggio di tante. Un Desperate Housewives dei vizi. Sì, una specie... Ho fatto veramente tipo... Dottoressa Jekyll, ho creato la mia Frankenstein, però... Perché ci sono delle cose troppo divertenti, cioè... Che poi succedono anche cose dopo, che tu dici, cavolo, se lo sapevo prima lo mettevo, ma... Sono molto divertita. Vabbè, farei un appendice, oppure... C'è spazio per un sequel? No. No. Anche se il finale è aperto. Mia mamma, per esempio, mi ha subito detto, ma come va a finire? Però non l'ho lasciato aperto per farci poi dopo un romanzo che prosegue questa storia. Ti chiedo l'ultima cosa, l'ultima curiosità, perché è una cosa estremamente netta nel tuo libro, che divide proprio i capitoli, le ambientazioni. Posso dire una cosa? È un piacere parlarne con lui, perché il libro l'ha... A parte che l'ha letto veramente... Che ragazzi capitano a volte delle cose... La Bignami non fa più i Bignami di una volta. Sì, quelli che vedono l'ultimo... Che poi li capisco. Infatti io non voglio mai i VIP a presentare... Cioè, quelli famosi, no? Perché generalmente i libri non li leggono. Cioè, capito? Perché hanno tanto da fare. Mi piace la gente invece appassionata di lettura, quelli che i libri, insomma, li leggono per davvero. Quindi ti volevo ringraziare perché sei molto profondo e non mi stai facendo le domande che mi fanno tutti gli altri. Le farò dopo, no? Scherzo. Grazie. Adesso farò una domanda del tubo, ovviamente, perché questa era... Se vuoi farmi una domanda davvero originale, fammi una domanda di matrimonio, che non me l'ha fatta nessuno. Ciao, ti sposi in futuro? No, era i capitoli. Tu li dividi proprio, sembra quasi una... La divisione non solo spazio-temporale, ma anche proprio del contenuto, che credo non sia una divisione retorica, almeno questo volevo chiederti, ma non credo, tra paese e città. Ecco, cioè, volevo solo sapere se era solo una cosa per semplificare, nel senso non semplificare il contenuto, ma per dare subito un'inquadratura a quello che volevi dire o c'è un senso ben preciso anche autobiografico tra paese e città? Beh, un po' anche per rendervi più facile la lettura e anche seguire la trama, perché ci sono delle cose che accadono nel paese, in particolare la figlia, Camilla, col marito, che poi il marito non vorrebbe avere la madre che sia lì, e invece quello che accade nella città dove c'è invece l'altra sorella che ricerca il programma televisivo, eccetera. quindi un po' è quella, una questione proprio pratica, narrativa. L'altra perché sono due mondi, diciamo così, diversi. Il paese e la città. Anzi, quando Marianna decide di andarsene via dal paese, la madre dice a lei finirai male, finirai male. La grande città, finirai male. Quindi anche un po' quest'idea del paese come luogo di tranquillità e la città come invece luogo più pericoloso, poi alla fine scopriremo che la vera tragedia è avvenuta in paese e all'interno delle mura domestiche. Che poi Camilla, a Camilla la fai... Perché è così, ragazzi, ma ci sono dei paesi che noi li conosciamo solo per le tragedie. Cogne, Novi Ligure, Avetrana, cioè Avetrana ormai dice Avetrana e pensi solo a quello. Quindi... Perché poi Camilla ne fa un po' una roccaforte quando risponde alla moglie del sindaco e dice speriamo che torni con tutte le sue delusioni. quasi come per dire, lei deve essere deluosa perché è qui. Altrimenti io non ho più giustificazione a dire sono rimasta qui. Quindi diventa roccaforte e diventa giustificazione. Però è veramente un bello spartiacque. Quanto ti sei divertita a scriverlo? Nel senso non solo divertimento risata. Sono divertita nelle parti più, però è stato per me molto... Ho cercato di essere molto delicata per quello che riguarda la descrizione della malattia dell'Alzheimer, perché so perché questa mia amica che cosa significa. Però sì, è stato un bel viaggio, un anno. Si, divertita mia non era la risata grassa, era l'autoriempimento... Allora quello sempre, perché la scrittura riempie, per fortuna. Poi è bello dopo, no? Quando senti le persone che l'hanno letto e che ti danno le loro reazioni. Poi a volte ci sono delle letture del libro, delle interpretazioni del libro che è come se me lo facessero riscoprire per la prima volta. E lo riscriveresti dopo queste reinterpretazioni? Ti verrebbe voglia di correggerlo? No, per il momento no. Per il momento no, mi piace proprio così com'è, devo essere sincera. E qui si ritorna al libro, la necessità di parlare di sé e di essere compresi. Un'ultima cosa da te però, sia autogestita, di una cosa ma anche affettuosa nei confronti di questa nuova creatura che stai presentando adesso, che è appunto l'Italia migliore. Un commento tuo, finale, sul tuo libro. Beh, vi invito a leggerlo. A questo punto parte lo spottone. Il marchettone ci va. No, vi invito a leggerlo perché, insomma, credo che sia un libro che vi piacerà, perché l'ho scritto davvero io poi, diciamocelo. E perché, insomma, è un modo anche quello per condividere le emozioni. Io che l'ho scritto con chi avrà la bontà di leggerlo. Grazie, grazie Vladimir Luxoria. Grazie a voi. L'Italia migliore, speriamolo sia. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. 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 Grazie.